Wow! Prova il nostro gelato! E benvenuto nella nostra colorata terra magica! Ciao! Posso avere un gelato? Sì! Aspetta un secondo! Vieni! È pronto! Wow! Che servizio incredibile! Grazie! Ah sì? Che ne dici di una sfida? Certo! Siete pronte per una nuova gara? Chi riesce a costruire la torre di gelato e biscotti più alta vince! Pronte? Partenza! Gelato! La costruzione della torre è molto semplice! Uno strato di gelato, fai uno strato di biscotti! Chi sarà il costruttore più fortunato? Eva? Archie? Ok! Mentre Kate preparava il gelato stile Empire State, Archie non faceva altro che mangiare e mangiare! Ho finito! Cosa? La torre di Eva è molto più alta! Wow! Bel palazzo, Eva! Ed è anche delizioso! In questo round dovrete indovinare il gusto del gelato! Signore, siete pronte? State per assaggiare un gelato molto insolito! Kate inizia per prima! Inizierà con questo! Oh! Che schifo! La mia povera lingua! Ah! Questo! È aglio! Sì! Lo è! Bel lavoro! È il mio turno! Cos'è questo sapore? Lo so! Agrumi? Vediamo! No! Questo è alle erbe! Eva, ti sei sbagliata! E Kate ha vinto! Kate, vuoi del gelato? Ecco! Era uno scherzo, amica! Taglia le palline di polistirolo su entrambi i lati Rivestile con il primer e dipingile nei colori del gelato Fai un buco con un punteruolo e infila le palline colorate su una corda Infila il cavo in un cono di cialda Che scherzo fantastico! Devo mostrarlo a tutti! Vuoi un po' di gelato? Ups! È caduto! Vuoi un po' di gelato? Forse è la prossima volta! Gelato? Non oggi! Ciao! Ehi, ragazza del gelato! Pagherai per i tuoi scherzi! Mentre Kate è distratta le ruberò tutto il gelato e lo nascondo! Dov'è il mio? Eva! Hai rubato il mio gelato! Come hai fatto a capirlo? È ovvio! Ciao! Ehi, Kate! Guarda cosa ha qui! Buppet gelato! È un dolce popolare! Buon appetito, Eva! Ma io ho qualcosa di meglio! Un simple dimple gigante! Metti il gelato bianco in uno stampo e lascialo congelare Appena solido, toglilo dallo stampo Colora il gelato con coloranti alimentari blu e rosso Congela Posiziona le mezze sfere su anelli di gelato bianco per farlo sembrare un simple dimple Questo sì, che è un gelato rilassante È così buono! Non essere invidiosa, Eva! La tua lingua è blu! Kate, sei pronta? Eva, sei pronta? Guarda il mio ghiacciolo Ah, è solo un ghiacciolo Archie! Il tuo ghiacciolo, Kate! Grazie! Wow! Questo sembra più il martello di Thor Il mio ghiacciolo è più grande Ma io posso finire il mio più velocemente Non riesco più a mangiarlo Archie! Quando vuoi, Katie! Ups! Gelato! Prendilo! Sbrigati! È mio! E questo è mio! Preso! Abbiamo preso tutto! Ottimo lavoro, amica! Grazie, ragazze! Abbiamo già fatto tutti i giochi Che altro dobbiamo fare? Pop it? Ho un'idea! Ta-da! Non funziona! Giochiamo a pop it al cioccolato con il gelato Metti gli M&M's in tutte le celle pop it Sciogli del cioccolato bianco E ricopri tutte le celle Lascia che si indurisca Riempi un grande secchiello di gelato al cioccolato E coprilo con il cioccolato indurito Aspetta! Giochiamo con le regole Mangi il colore che ti rivela il cubo Arancione? Che colore delizioso! Katie, è il tuo turno! Lancio! Blu! Eccolo qui! Credo che farò un doppio pop it Non riesco più a mangiarle Signore! Oh, quante delizie! Pop it gelato! Pensarci! La tua lingua! Ah, non importa! Mangia quanto vuoi! Allora? C'è un pop it sulla tua lingua! Signore! Ecco le vostre provviste! Dovete fare qualcosa di interessante Con i bastoncini dei ghiaccioli Kate ha un'idea brillante Ma cosa dovrei fare? Ecco il mio pratico con il gelato Buon appetito, Archie! Grande! Eva, che succede? Fatto! Wow! La torre Eiffel! Ma c'è un inconveniente! Questa torre Eiffel non va bene per il gelato! Vado in pausa pranzo! Ottima idea! Gustosi tacos! È tutto il giorno che vi sogno! Monta quattro uova con mezza tazza di zucchero Aggiungi 200 grammi di burro fuso Estratto di vaniglia Un pizzico di sale E una tazza e mezza di farina Guoci delle cialde E modellale mentre sono ancora calde Riempile con palline di gelato Decora con cereali, caramelle e sciroppo Usa i coloranti alimentari per fare i tacos di diversi colori Questi tacos sono fantastici! Li vorresti anche tu, vero? Chi dovrebbe essere invidiosa? Mangerò il sushi di gelato per pranzo Riempi le mezze sfere di silicone con del gelato bianco Congela! Taglia degli anelli di gelato Taglia dei pezzi di mango Pera, fragole, kiwi, pesca e arancia E inseriscili negli anelli di gelato Decora i rotolini di sushi dolce Con una liquirizia nera E gli zuccherini rossi Sono i migliori rotoli di sushi di sempre! E ora i nostri spettatori devono aiutarci Scrivi qui sotto quale pranzo ti è piaciuto di più Tacos o i voltini di sushi? Ecco il cavalletto! Signore, preparatevi per un nuovo round della sfida! Tic-tac-toe con gelato colorato! Cage dà il via! E Eva prende il centro! Ecco la mia mossa! E io ribatto qui! Tocca a me! Non ti lascerò vincere! Oh cavolo, mi hai rovinato tutto! Assaggia il mio pugno freddo! Ops! Perché? Questo round è finito! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto qual è il tuo gusto di gelato preferito! E metti un like al video! Iscriviti al canale! E clicca sulla campanella Per non perdere nessun nuovo esilarante video di Troom Troom! Ciao!